Ciao a tutti da Cristian Tigenza, salutatore del blog, grandissima sorpresa, mi trovo qui con la grandissima attrice Ambra Quaranta, vincitrice di... Di 9 giorni di grandi interpretazioni della prima edizione al Festival del Cinema di Roma, allo stand gioco dell'Otto. Ecco, vogliamo fare un saluto... A tutti gli amici di Facebook, Twitter e tutti i social network, insomma, in generale. Basta, ciao! Ciao a tutti, direttamente dal Festival Internazionale di Roma 2014, Cristian Tigenza e... Ambra Quaranta, con una voce in massa. Appena fatto un provino e perciò ha dato il massimo. Ciao!